Finisco in un mondo parallelo e sono un peso per tutti maledetti goblin avete ucciso manato giuro che mary non farà la stessa fine Sembravo essere il leader perfetto ma alla fine sono tutto fumo e niente arrosto per questo mi ha messo uno spiedino nella schiena Arohiro affido a te il ruolo di leader perché nel gruppo sei il più portato e questa la dice lunga sulla qualità dei membri del gruppo Hai presente quando si dice gli amici si vedono nel momento del bisogno bene perché quando avevo bisogno sono stato salvato da dei vermi maiali Mentre i miei amici scappavano a giusto sei piatta Dico solo una cosa gli altri mi pagano l'equipaggiamento e poi mi becco la spada del boss totalmente gratis per il resto della serie Piango e cucino poteva sembrare che da un momento all'altro mi mettessi con il protagonista ma poi è arrivata mary che Sicuramente ha più seno di te piatta non sono piatta Il tizio che mi piace muore e niente per il resto non faccio nulla Magica torre me Meno di sinfoni Magica torre me E' un funia Sono un pochino zundere però i miei motivi dovete sapere che i miei amici sono morti nelle miniere e ora odio le miniere Provo terrore pensiero di tornarci mary dato che abbiamo sterminato i goblin ora abbiamo scelto un nuovo posto dove andare e indovina abbiamo scelto le miniere Non so consolare le persone però i soldi Potevo sembrare un personaggio interessante ma poi ho bevuto la prima birra e Come state Manato è morto Niente Australia Australia Questi sono tutti cretini Potevo sembrare un personaggio